Proseguono le indagini da parte degli inquirenti per individuare i responsabili dell'aggressione avvenuta al Pala del Mauro in occasione del match di calcio a 5 tra Sandra Abate e Napoli Futsal. Al momento risultano solo due persone denunciate dalla questura di Avellino per i fatti avvenuti martedì sera, mentre si cercano di individuare le altre persone coinvolte. Si tratti due incensurati, i cui dati sono stati tenuti riservati dalle forze dell'ordine dell'età tra i 30 e i 25 anni. Un ride premeditato, secondo la Digos di Avellino, compiuto da 20-30 persone che si sono regate al palazzetto dello sport per seminare il panico. La loro intenzione non era quella di accedere all'impianto per assistere alla gara, ma di creare subugli. Una sorta di vendetta per quanto accaduto nella passata stagione tra le tifoserie delle due società, con qualche frizione di troppa avvenuta in terra partenopea. Difficile invece immaginare che si possa trattare di una vendetta per le aggressioni avvenute nel mese di giugno in città per la vittoria a Scudetta del Napoli Calcio. Ovviamente si è temuto il peggio quando i tifosi Irpini si sono riversati fuori dal pala del Mauro con scontri feroci che hanno provocato diversi feriti, alcuni dei quali medicati sul posto. Solo con l'intervento delle forze dell'ordine si è riuscita a ripristinare l'ordine pubblico con la fuga degli assalitori. Una triste pagina è stata scritta tra le due tifoserie che non fanno altro che danneggiare l'immagine del calcio a 5 e sport in forte ascesa in Italia.